panino san quan a che cosa è tenerife oggi paniamo di playa san quan panino alla mano famiglia alla mano questo è il posto eccolo qua benissimo ci vediamo tra un attimo dopo il panino indietro le quinte alla gente non gli interessa che il calore magna vale importante è l'ecologia i rifiuti vanno buttati da qualche parte e adesso andiamo a cercare un secchio per la mondezza dopo questa ristorazione con panino a sacco facciamo questa passeggiata in questo posto incantevole playa las quan con il mio sacchetto della mondezza con il grande cocomero canario eccola in lontananza si vede un un vaso di basura un vaso un bottiglione non sape di caleta e basura in questa meravigliosa parte dell'isola una padellera dice giorgio eccolo fantastico è una padellera la padellera è quella padellera è quella padellera è quella padellera grazie a tutti